Alberto Paloschi per sportlive.it, una stagione positiva, purtroppo qualche infortuna di troppo che ti ha frenato, ma è la media presenza e gol ottima. Il prossimo anno cosa ti aspetti? Il prossimo anno spero soprattutto di star bene con la salute e poi di riuscire ad arrivare in doppia cifra che quest'anno non sono riuscito. Quindi la doppia cifra potrebbe essere una realtà raggiungibile? Sì, tutto è possibile, basta far bene e allenarsi sempre bene e poi le cose arrivano. Un nuovo mister a Parma? Probabile, insomma, dopo Guidolin tu ti porresti ambientare con qualsiasi modulo? Sì, io sono un giocatore giovane quindi devo imparare qualsiasi cosa, tutto quello che viene di nuovo è meglio, quindi c'è solo da apprendere e basta. Lanzafame che la riceve da Paloschi, ancora Lanzafame, prova! Paloschi! E' la gola della 2-1 del Parma, è tutto regolare, meno di 90 secondi sul cronometro e Paloschi. Ancora Castellini, cross dentro Paloschi, prova ad arpionare, Paloschi destro! 2-0! Paloschi! 2-0! Un gran gol, quello di Paloschi, voglio vedere come ha fatto Karazette. Ma che gol stiamo vedendo, dei capolavori, io credo che non ci sia deviazione, sia proprio l'intenzione del giocatore ad andare a pescare l'angolo lungo. Li vediamo Marco! Mamma mia! Mamma mia che gol! Un saluto a tutti i lettori di Sportalive.it Ciao!